Carissimi amici, ascoltatori e telespettatori siamo tornati nuovamente al Festival del Cinema di Roma e questa volta con Mirko Alivernini, eccolo qui con noi Ciao a tutti ragazzi, che bello vedervi, oggi è veramente una bella giornata, quando vedo gli amici sono sempre felice Anche noi siamo felici di rivederti, facciamo spesso delle interviste con te ma oggi è un giorno speciale, cosa accadrà? Beh è un giorno speciale perché in realtà oggi presentiamo in anteprima nazionale, ovviamente verbalmente, il nostro film Acqua e Sporche che uscirà il 3 novembre e verrà presentato all'Anica Film in anteprima nazionale e niente, sono molto contento di essere qui e poi da voci indiscrete ho saputo che mi devono dare un premio importante oggi e quindi aspettiamo di riceverlo e poi capiamo Allora è veramente una giornata da non dimenticare, noi siamo qui per testimoniare questa giornata importantissima con tanti amici, ho visto anche Roberta meravigliosa e tutti gli attori, le persone che girano intorno al tuo staff siamo lieti di far parte veramente di questa grande family Il piacere è tutto nostro, Emanuela siete strainvitati il 3 ovviamente ma la cosa importante è che dico sempre e chiudo perché il tempo è poco e Emanuela ci ha da intervistare un milione di persone però io devo dire sempre che la frase con cui mi piace chiudere le mie interviste è sempre questa amate il cinema in ogni sua forma Un saluto a tutti ragazzi, grazie